non poteva mancare naturalmente olio oliva anche la col diretti Antonio Fasolo il presidente in alta uniforme possiamo dire Fasolo per parlare di campagna amica per parlare di chilometro zero per parlare ma soprattutto per far gustare i nostri prodotti le bontà che sanno fare i nostri produttori assolutamente sì quest'anno abbiamo un po' voluto cambiare entrare nel cibo direttamente perché di fatto i visitatori di olio oliva hanno il piacere di degustare l'olio presso le nostre aziende di col diretti campagna amica lungo via bufante e lungo tutto il percorso di olio oliva e noi come col diretti abbiamo un po' siamo un po' entrati un po' più nello specifico e abbiamo insieme alla nostra amica la food blogger a chilometro zero Sabrina Ramella che oggi ci dà una mano nel valorizzare l'olio d'oliva in particolar modo ovviamente l'olio taggiasco unito al cibo quindi siamo un po' andati oltre perché non solo a degustare l'olio taggiasco con le sue caratteristiche organolettiche uniche e esclusive ma un abbinamento anche col cibo con i pesci soprattutto perché non bisogna mai dimenticare anche la realtà del marrigore e dei suoi pesci e quindi incontrare insieme a col diretti a Sabrina Ramella food blogger locale gli ospiti, i visitatori di olio oliva per creare questo abbinamento e ci auguriamo che riesca e funziona sarà sicuramente un'ottima riuscita Sabrina Ramella è una garanzia in questo senso che cosa proporrai Sabrina? come stuzzicherà i palati? allora una ricetta con una tecnica un po' particolare un olio cottura proprio perché è la fiera dell'olio la festa dell'olio ho deciso di rendere l'olio il protagonista del piatto qui c'è una casseruola che è d'oro questo è oro giallo esattamente, oro giallo farò del baccalà a pezzetti cotto in olio cottura a bassa temperatura quindi non è una frittura non è assolutamente una frittura come spiegherà poi il mio collega nutrizionista che arriverà, il dottor Stefano Beschi lui spiegherà meglio l'olio cottura permette anche se non sembrerebbe perché pensare di cuocere nell'olio si pensa che il cibo praticamente si impregni d'olio in questo caso non avviene una cottura a 70 gradi si forma una pellicola intorno al cibo che permette al cibo stesso o carne o pesce io in questo caso ho sciolto il pesce di mantenere la sua morbidezza e tutti i suoi sapori all'interno olio protagonista ma non solo l'olio il pesce che ovviamente è alla base della cucina mediterranea e la verdura la verdura farò una crema lo abbinerò al pesce a una crema di zucca e una crema di broccoli due prodotti prettamente di stagione come diceva prima il presidente Fasolo cucino a chilometro zero quindi quello che... hai già fatto venire fame Sabrina sono contenta grazie mille speriamo presidente Fasolo qui tra l'altro dobbiamo anche dire una cosa pesce è altro che a chilometro zero a metri zero perché abbiamo visto Don Carlo un pescareccio addobbato con le bandiere di Coldiretti quindi vuol dire che Coldiretti si è spinta dagli orti al mare si si è spinta dagli orti al mare con WECOP è nata qualche anno fa abbiamo iniziato a entrare nel mondo della cooperazione delle cooperative in Liguria ovviamente la cooperativa è una realtà estremamente importante sia per i servizi ma anche nella pesca abbiamo iniziato la collaborazione con Don Carlos ma con altre barche in tutta la Liguria per anche riscoprire anche il pesce che è un po' dimenticato perché i nostri mari sono estremamente ricchi i pescatori sostanzialmente hanno un po' gli stessi problemi dell'impresa agricola c'è il famoso saltare i passaggi per riuscire comunque a vivere e avere un reddito dignitoso e quindi a poter mantenere la famiglia quindi questa venda diretta che è nata dal mondo dell'agricoltura l'abbiamo proposta ai nostri pescatori e l'hanno accolta benevolmente e adesso abbiamo iniziato un percorso e con l'occasione anche e soprattutto a far riscoprire i pesci dimenticati che i nostri mari sono ricchi e dobbiamo anche ricordare che Campagna Amica non è soltanto qui a Olio Oliva bisogna andare a cercare le bandiere bandiera gialla una volta si diceva dove c'è bandiera gialla vuol dire che qui si balla dove c'è la bandiera gialla dei col diretti invece si compra bene e bisogna cercare nei mercati nelle fiere perché Campagna Amica c'è sempre Fasolo Campagna Amica c'è sempre Campagna Amica è una garanzia perché noi le aziende di Campagna Amica vengono controllate una per una in modo tale da garantire al consumatore la tracciabilità la distintività e la chiarezza e la trasparenza di provenienza del prodotto l'ultimo battito non vorrei dimenticare lo scandalo degli oli di queste ultime settimane c'è la truffa ai consumatori nel momento in cui si mette in etichetta che è extravergine poi non lo è che ci ha ferito in modo particolare perché oggi il marchio Sasso non è più in Perriese finito in Spagna va bene le indagini sono in corso si vedrà quello che sarà non vogliamo fare i processi prima però sentire che un marchio che era nostro che è nato qui nella nostra Oneglia è coinvolto in questa situazione ci ha ferito in modo particolare anche perché facciamo di tutto qui fate di tutto voi per far capire la verità del prodotto quello che c'è nella bottiglia che deve essere vero sincero e tutto questo fa veramente del male però forse può far capire può aiutare a dire cerchiamo proprio le cose vere le cose genuine non le cose per forza belle con grandi etichette con tanta pubblicità investimenti di miliardi i nostri piccoli produttori non possono investire miliardi in pubblicità investono tutto quello che hanno nel prodotto ci mettono la faccia Campagna Amica ci mette la faccia le imprese di Coldiretti ci mettono la faccia quando un consumatore va a comprare in un'azienda agricola compra prodotto ma compra su quel prodotto anche la faccia la serietà e la trasparenza di una persona questo è estremamente importante è ovvio che spiace per un marchio impriese però vorrei anche ricordare che le aziende agroalimentari impriese tuttora sul territorio sono aziende leader sono aziende trasparenti sono aziende corrette e che diciamo vanno un po' a recuperare questo gap che si è formato e io vorrei anche ricordare che è brutto dire ve l'avevamo detto ma con Antonio Fasolo abbiamo una volta addirittura provocatoriamente fatto anche una bancarella dove c'erano taggiasche impossibili che di taggiasche non avevano proprio nulla ma anche in cartolina l'avevano visto c'era il parmesan addirittura che era un che formaggio sarà stato non lo sappiamo non lo vogliamo neanche sapere cioè sono anni che voi continuate a dire stiamo attenti perché qui ci imitano ci imitano pure male quindi ci fanno male due volte sì è un furto è una truffa insieme perché è una truffa perché comunque sia sono marchi contraffatti di prodotti che non rappresentano non rispecchiano il territorio di provenienza quindi è un danno economico allo Stato e a tutti quanti ed è una rapina perché comunque nei confronti dei consumatori ci viene venduta una cosa per un'altra c'è il rischio che magari qualche americano pensi che il nostro formaggio piuttosto che i nostri oli siano quello che in realtà non sono assolutamente sì questo è quello che combattiamo la chiarezza e la trasparenza dell'etichettatura cioè ancora nell'ultimo nelle ultime settimane è blocco alla Lactalis sul latte per gli allevatori italiani che lavorano sotto costo cioè il prezzo del latte a stalla costa 38 40 centesimi viene pagato 31 32 centesimi la battaglia dei col di retto è quella di mettere in evidenza in etichetta quando un prodotto italiano la certezza e la trasparenza e la provenienza l'unione europea ci deve aiutare non danneggiare aiutare persone come la nostra amica Sabrina che invece le cose le fanno con le bottiglie giuste è vero Sabrina assolutamente rigorosamente per farla mangiare bene bisogna usare prodotti di qualità avere il coraggio di fare un piccolo investimento come è questa casseruola lo è un piccolo investimento è una cassaforte aperta è veramente ciò che di meglio si può avere dalla natura per quello che riguarda noi come Liguria dire olio vuol dire tutto quindi a voi che si può avere Grazie a tutti.